Da segnalare una grandissima nonché enorme voragine che si è aperta in Corso Francia, ci troviamo a Roma, precisamente Roma Nord. Per colpa di una tubatura che purtroppo si è andata a rompere, un tratto di strada è rimasto chiuso in direzione del grande raccordo anutare, che invece è rimasto aperto in direzione centro. Per quanto riguarda la rivertura di Corso Francia, bisognerà aspettare o mai attendere l'intervento dell'ufficio tecnico del municipio, ma anche dei vigili del fuoco, è quello che si apprende in queste 12 ore dove questa voragine causata da una tubata rotta ha letteralmente creato disagi alla circolazione e quindi alla viabilità. Io ovviamente vi aggiungerò per filo e per segno nel caso in cui ci dovessero essere delle informazioni in più, delle informazioni aggiuntive, state, come si dice in inglese, rimanete incollati al canale e seguite gli sviluppi che eventualmente parlando ci potrebbero essere da qui al futuro. Iscrivetevi al canale, narratore italiano, commentate, ciao a tutti e una buona giornata.